I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria dell'Aquila hanno denunciato per indemita percezione di erogazione ai danni dello Stato FT classe 1976 dell'Aquila, rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009. Attraverso due false autocertificazioni attestanti l'avvenuto pagamento di due fornitori, in forma una nota delle fiamme gialle, il soggetto ha ottenuto indemidamente da parte del Comune dell'Aquila il pagamento di due sal, gli stati di avanzamento dei lavori, per un importo complessivo di oltre 500.000 euro. I finanzieri gli hanno sequestrato una somma pari a 90.000 euro, corrispondente all'importo delle fatture non pagate ai fornitori. L'attività di servizio si inquadra in un più ampio contesto investigativo, che vede le fiamme gialle coordinate dal pullo di magistrati della Procura della Repubblica nell'ambito del progetto CRASI, Centro Ricerca e Analisi per lo Sviluppo Investigativo, impegnate già da tempo in mirati accertamenti, volti alla verifica dell'autentica delle autocertificazioni di avvenuto pagamento dei subappaltatori o fornitori, prodotte dagli affidatari dei lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati del sisma. Il contrasto a tale fenomenologia illecita assume sempre più rilevanza nell'azione svolta dalla Guardia di Finanza per gli effetti distorsivi delle regole di mercato che, per ragioni di intuitiva evidenza, determina. Gli affidatari dei lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati al sisma che omettono il pagamento dei propri fornitori, di beni e servizi, i cosiddetti subappaltatori, oltre a non assumersi alcun rischio di impresa, atteso che i pagamenti per i lavori da loro svolti vengono elargiti puntualmente dall'amministrazione comunale a ogni sala e trattenendo quindi per sé tutti gli utili, privano di preziose risorse finanziarie le imprese più piccole, determinandone sovente, se non il fallimento quanto meno la sofferenza.